Io ho cominciato un libro che si chiamava L'Indovino mi disse con una frase curiosa che le buone occasioni nella vita si presentano sempre. Il problema è di saperle riconoscere. In quel caso dell'Indovino era una maledizione. L'Indovino, come dice lei, fra 13 anni o 16, quello che era morirà in un incidente aereo. E dovetti prendere tutte le misure del caso. La prima era di non volare mai su un aereo così che non moriva su un incidente. Con l'Indovino avevo fatto un primo passo fuori, fuori dal mondo normale, fuori dal giornalismo, dai fatti, dal mondo quello là che corre. E me l'ero messo in un altro spirito, che è quello che ho sempre cercato nella vita. Cioè l'altro aspetto, quei fatti, quella verità che è al di là dei fatti. E l'Indovino è il primo passo. Cioè l'Indovino è un viaggio nella magia. Perché la fuga della magia dalla nostra vita toglie a noi una grande visione di tutto quello che è altro. E rimaniamo dei piccoli, banali corpi che si arrabattano, si lucidano, si fanno belli. Per niente. Per niente. Grazie a tutti